Maristella Mangiarotti, relazioni esterne dell'AIS, proprio a lei che ha vissuto questi giorni di Vinitaly intensamente con tutti i sommelier d'Italia, vogliamo chiedere un'opinione su come è andato questo Vinitaly. Buongiorno, sono Maristella, relazioni esterne dell'AIS, direi che per noi questo Vinitaly è andato decisamente bene, effettivamente è stato molto intenso, concentrato, essendoci un giorno in meno, però effettivamente abbiamo raggruppato svariati appuntamenti. Anche lunedì, che è stata la giornata del sommelier, noi abbiamo avuto tantissimi ingressi, tantissimi sommelier che hanno potuto soffrire di questa giornata e soprattutto dei contatti che hanno avuto con l'AIS e con tutti i produttori. Quindi un momento imperdibile, positivo e viva il vino. Certamente positivo e viva il vino di qualità in tutta Italia. E viva i sommelier. Grazie.